Il numero 7 Mattia Lattini, con il numero 8 Rappele Portato, con il numero 9 Alessandro Conti, con il numero 13 Alessio Pagatino e con il numero 11 Enzo Pagati. In panchina a disposizione del tecnico il signor Humberto Portelazzi, con il numero 12 Matteo Maino, con il numero 13 Fabio Lucente, con il numero 14 Niccolò Saccavanozzi, con il numero 15 Giovede Mureno, con il 16 Stefano Papapicco, con il numero 17 Simone Giambrone, con il 18 Michael Cavalcante, con il numero 19 Riccardo Piaffano e con il numero 19.